Ciao a tutti, oggi ragazzi andranno in barca, ecco, no vabbè ma fate con comodo eh, dicevo oggi si va in barca sulla va, canoa tipica taitiana e si accertano scommesse sul primo che cadrà in acqua, io qualche sospetto ce l'ho, ma chi farà le interprete con gli abitanti del luogo, forse è solo che due o tre parole in francese le sa, ma vediamoli. Donc bonjour tout le monde, bienvenue a Tahiti, cette embarcation, on l'appelle nous, les Tahitiens, l'Aponesi, le VA. Donc c'est le capitaine qui donne le tempo? C'est lui-même aussi, qui augmente la vitesse, il donne conseil au premier, lui rallonge, il donne des coups de pagaie plus rapides. Ok, grazie, 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 ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao, siamo pronti, ma Sergio devi guardarlo tu, dove andava? No vabbè Sergio dove stavi tu? Ah bella raga, Sergio, guarda che fa una bella vita, ciao ragazzi, oggi faccio un po' di Rex, ah 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 ah, salute, Sergio se l'hai goduta, la faccia nostra se l'hai goduta. Questa è la mia canoa e tu navighierai fino a te. Forza, ce la fai, ah 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 comunque c'è una sincronizzazione di Ragazzi, a tempo, a tempo, forza, forza, guarda il capitano, non guardare in me. No, no, possiamo migliorare, possiamo migliorare. L'importante è comunque partecipare, non è mio. Sergio, da te proprio non me l'aspettavo, lì sulla barca, spaparanzato al sole, a bere il cocco. Ecco, proprio come lui, mentre gli altri a rimare e a sudare. Dai, ma non si fa. Ah, Bise, Bise, tu pensi che nessuno se ne sia accorto, ma io ho sentito quello che hai detto. O la va o la spacca. Ma che battuta è? Ciao ragazzi, alla prossima avventura. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Ciao ragazzi.